Salve, buongiorno a tutti, buon anno, buon 2019, primo video di quest'anno. Oggi volevo parlare, scusate questo raggio di sole, questo raggio laser, ma non so dove mettermi. Oggi volevo parlare degli stimolanti in genere, caffeina e quant'altro, e degli energy shot. Cosa sono, a cosa servono e soprattutto a cosa non servono. Faccio questo video perché mi è stato richiesto da diverse persone, ieri, venerdì no, ieri era domenica. Venerdì ho fatto una chat abbastanza esilarante con un cliente che pensava di comprare delle bombe a mano, invece comprava delle nullità totali e quindi volevo fare un pochino di chiarezza su questo tipo di prodotti che più o meno tutte le aziende, soprattutto quelle un po' mirate al ciclismo, hanno nel loro listino. Casualmente sono tutti prodotti che hanno in mezzo la parola energy. Però ricordatevi che l'energia è fornita da un qualcosa che fornisce calorie. Un piatto di pasta dà energia, l'acqua serve a 3000 cose ma non dà energia, non avendo calorie. Il problema di questi shottini è che di energia ne forniscono ben poca. La gente confonde l'energia con il blando stimolante, il prodotto che mi agita un po'. Sono due cose completamente diverse. Dicevo più o meno contengono tutti, qui ho 4 o 5 esempi, finché non li vede Sofia, ecco ci arriva subito. Total energy shot, extra shot energy. Energy shot, la fantasia è i nomi qua. Start up, prendo questo e mi sparto alla grande. Force 3, Force. Ricordate, mediamente questi prodotti forniscono 10, 20, 40 calorie. Quindi nel ciclismo stiamo parlando, mi bevo uno sciottino e ho 2 minuti di autonomia. Quindi, cosa estremamente importante, l'energia la fornisce qualsiasi cosa che assumo, che contenga carboidrati o calorie, perlomeno calorie, poi magari saranno da grassi, però calorie e in un certo quantitativo. Se mi bevo uno sciottino che mi fornisce 2 grammi di fruttosio, assumo 8 calorie, non si scappa da lì. Quindi questi prodotti normalmente sono dei blanti stimolanti, ma a livello energy sono praticamente poco più che niente. Velocemente, cosa sono gli stimolanti? Gli stimolanti sono prodotti che, lo dice la parola, comunque, danno un pochino di brivido al sistema nervoso. In primis la caffeina. Prodotti da cui si estrae caffeina, eventualmente, guaranano, cedicola e quant'altro, taurina, tirosina, prodotti appunto come la tirosina che lavorano un pochino sull'attenzione, sulla concentrazione. Ovviamente sono tutte cose che non forniscono calorie di loro. Sono dei blandi eccitanti. Qual è il problema però dei blandi eccitanti? In primis la caffeina. Eccitano se non la usate. Nel senso, l'italiano medio che molto spesso beve 4, 5, 6, 10 caffè al giorno con la caffeina, ci fa ben poco. A meno che non prenda dosaggi dove rischia un infarto. Un caffè espresso si considera che contenga dalle 50 alle 100-120 mg di caffeina. A seconda della torrefazione, di quanto è lungo. Ricordatevi che la caffeina è nella sciacquatura di piatti, nel beverone, non nel caffè. Un errore che sento spesso dire dai miei clienti ciclisti è che quando mi dicono tutto quello che prendono prima di andare in bicicletta, molto spesso immancabilmente c'è. Un bel caffè, bello forte, ristretto. Nel caffè forte e ristretto c'è magari tanto sapore ma non c'è caffeina, ce n'è molta poca. Per spremere al massimo la caffeina dalla carica del caffè bisogna andare sul caffè lungo. Vi fate fare un bella tazzona di caffè, magari doppio e forse un 100-150 mg di caffeina, li prendete ben poco lo stesso. Il caffè ristretto o la moca a casa non è che abbia chissà che, ricordatevi questo. Un altro problema della caffeina in genere è che dà assuefazione, ci si abitua. La caffeina si considera anche sia un potente stimolante, termogenico, sì, benissimo, importantissimo. Ma poi alla fine i due paesi tra quelli dove si usa più caffè di tutti, Italia e Stati Uniti, sono anche i due paesi con il più alto numero di obesi al mondo. C'è qualcosa che è il mondo. A dopo. Eccoci di nuovo, scusate l'interruzione, è entrato un cliente, a memoria come sempre, non è che mi ricordi granché a che punto ero rimasto del video, se non ricordo male parlavamo della caffeina. Stavo dicendo, la caffeina si ottiene al massimo, diciamo, della disponibilità col caffè lungo, non col caffè ristretto. E l'altro grosso problema è che come tutti gli stimolanti, bene o male, dà assuefazione. L'italiano medio che si beve 4-5 e passa caffè al giorno, sento gente che ti dice, ah io la mattina mi faccio una moca da 4 da solo, se non mi prendo un caffè la mattina non mi sveglio. Poi c'è la colazione, il caffè al Barzanussi in ufficio, il Barzanussi è il distributo. A pranzo prendo il caffè, al pomeriggio prendo un altro caffè, la caffeina. Il test secondo me importante da fare per vedere se la caffeina mi fa ancora qualcosa, è molto semplice. Se bevo un caffè dopo cena, dovrei avere seri problemi a dormire. Se come tanta gente bevo un caffè alle 10 di sera e vado a dormire bello tranquillo, la caffeina non mi fa più niente. A meno che non andate in dosaggi da ictus. Un'altra questione, diciamo che la caffeina da caffè è costosa, il caffè costa 90, 1 euro, 1 euro e 10 e sono 50, 100 milligrammi di caffeina. Ci sono in vendita, la caffeina è estremamente economica, ci sono in vendita barattoline di caffeina, li trovate sul mio sito tranquillamente, la pazza urla, 8, 9, 10 euro, di solito 100 compresse da 200 milligrammi. Se volete un consiglio e vi interessa avere uno stimolo discreto dalla caffeina, abituatevi a bere caffè decaffeinato. La volta una tantum che vi serve un certo stimolo dalla caffeina, c'ho l'allenamento in palestra importante, devo fare gambe, c'ho il turno di notte al lavoro, vado in bicicletta, voglio essere schizzato come un cocainomane, abituatevi a non bere caffè, la volta che vi bevete magari un caffè doppio vi può fare un buon effetto. Se bevete una barca di caffè al giorno, sono solo segmentali. Arrivederci e grazie, alla prossima.